Mimmo Calopresi, intanto permettimi i complimenti per Clio. Grazie, molte grazie, mia figlia. Si presenta benissimo. Ha una carriera davanti, pensa di fargli fare questo lavoro? Ma non lo so, però deciderà lei. Però qua era molto divertente l'idea di partire da un problema suo, di una sua bambola, ma anche di una cosa importante, no? Di un bambino a cui provare a vedere un po' come un immigrato che arriva, uno stracchiotto, eccetera, no? Dato che noi parliamo spesso di queste cose guardando la televisione, allora sai, dice, ma chi sono? Questi sono dei poveri, no? E poi vado a vedere i politici che dicono i migranti economici, no, sono dei poveri. E quindi l'idea del gioco era fondamentale in questo lavoro, per poi un gioco che poi alla fine diventa pesante, purtroppo, e arriviamo fino al fatto che appunto da un giocattolo falso arriviamo alla schiavitù, arriviamo alle mafie, arriviamo alle cose terribili che in questa fase storica purtroppo ci toccano. No, è bellissima questa cosa, intanto, vabbè, perché Clio ovviamente all'inizio ha un po' paura, le chiede, ma succedono a Roma queste cose? Lei la tranquillizza e dice, no, no, ci vuole l'aereo, no? Per arrivare lì, quindi comunque abbiamo un po' paura, no? Ancora di queste cose. No, abbiamo molta paura, abbiamo paura a tutti di quello che ci sta succedendo intorno a noi. E dopo che ho finito questo lavoro c'ho ancora più paura, sinceramente, perché se vedo queste frontiere che si chiudono per dei poveracci, poi sono aperte per le merci della mafia. Allora mi dico, lavoriamo su quello piuttosto che su quest'altra questione. Cioè, aiutiamo questi poveracci ad arrivare e diamogli una mano, perché hanno delle difficoltà, e contrastiamo fortemente questi che ci portano via lavoro, che con i soldi che guadagnano lì poi alimentano altri traffici, e i prodotti che magari ci arrivano tra le mani, no? Che ci sembra che ci costano poco, vuol dire che c'è un povero schiavo in Cino da qualche altra parte che sta lavorando a zero, no? Quindi voglio dire, alla fine, siamo tutti inseriti in un gioco che è più grande di noi, no? Quindi finisce che per comprarci un paio di scarpe che costano poco alimentiamo poi una mafia internazionale che ci fa molta paura. Sì, lei magari dice, uno non ci pensa, no? Compro queste che costano meno, e lei ha detto però, facciamo un disastro, perché insomma alimentiamo mafia, schiavitù, no? Appunto, comiamo un disastro, ma quasi inconsciamente, no? Comprandoci delle sigarette per strada, che, come dire, che costano poco, ma non solo alimentiamo schiavitù, eccetera, magari ci roviniamo anche la salute, no? Con il cibo dentro questi... Per esempio, il cibo, tutto contraffatto in giro per il mondo, le persone nella crisi cercano di spendere meno, quindi, voglio dire, si accontentano di mangiare cose non buonissime, no? Allora, invece, bisogna che noi ci difendiamo a tutto questo. Ecco, questa è l'indicazione. Comunque, è bellissimo perché inizia tutto, appunto, da lei e sua figlia sul divano a guardare, no? Il telegiornale, e poi da lì parte tutto un viaggio, no? Che la porta, appunto, a scoprire cose sulle mafie, sulla contraffazione, poi andiamo a Budapest. Però ci sono anche degli incontri, no? Piacevoli, i ragazzi di Napoli sono stupendi. I ragazzi di Napoli, per esempio, quei ragazzi sono salvati poi dalla... Dico, da Saviano, da Gomorra, no? Vengono salvati poi dal fatto che sono ragazzi a rischio, no? Perché sono in quartieri pericolosi, eccetera. C'è uno che fa l'attore, ha fatto l'attore in Gomorra. Oltretutto un ragazzo che fa l'attore dentro di Gomorra, anche tra i più bravi, devo dire, degli attori di Gomorra, che ha la vita salva, no? Perché questa cosa forse gli permetterà di fare l'attore. Forse gli ha fatto capire qualcosa della vita, no? Gli ha fatto incontrare persone di un certo tipo che non avrebbe mai potuto incontrare se non c'è questa possibilità della televisione, del cinema, eccetera. I ragazzi dei quartieri oggi stanno cambiando molto perché stanno diventando più consapevoli. Vogliono una vita diversa, vogliono star meglio, perché poi stare con la camorra non si sta bene, perché si muore, come dire, è complicata la vita che ti propongono. Loro invece vogliono star bene, ci provano questi ragazzi. Magari forse, non so, spero che ce la facciano. Io voglio dire, gli auguro veramente tutto il bene perché se lo meritano. e sono ragazzi che meriterebbero molto di più della vita, secondo me. Poi dai ragazzi e bambini, lei nel film a un certo punto dice, anzi verso l'inizio, quando requisisce in senso buono naturalmente tutti i giocattoli dei bambini per fare un mercatino appunto e mandare i soldi a questi bimbi immigrati. Lei dice, i bambini forse salveranno il mondo? Ci vedo la speranza a qualche parte di Sabella. Qualcosa dobbiamo aggrapparci? Io punto tutto su mia figlia Clio. Poi però alla fine c'è la citazione delle citazioni e la bellezza salverà il mondo. Ma sì, perché alla fine noi compriamo anche una quantità di cose brutte e ci stiamo facendo invadere dalla bruttezza. Io mi sono accorto in questi mercati che arrivano dall'est, cioè tutto uguale, tutto brutto, tutto senza stile. Non lo so, siamo abituati in un paese dove la moda, il modo di vestire, eccetera, no? Era importante, ci faceva riconoscere nel mondo. Ognuno voleva avere uno stile, no? I ragazzi napoletani gli piace essere stilosissimi nel loro modo di vestire. E invece stiamo facendo invadere purtroppo dalla marea nera, come la chiamo io, in cui la qualità, la bellezza, cioè messa in secondo piano. In cambio sempre solo dell'economia. Insomma, forse c'ha ragione proprio Francesco che non è l'economia che deve governare il mondo, ma le persone, gli esseri umani, i loro bisogni. Per chiudere, insomma, questo suo lavoro si inserisce in un'iniziativa molto importante, no? Per saperne di più delle mafie, per far sapere di più sulle mafie, insomma. Quindi una cosa importante. Chi lo deve vedere, questo suo documento? Ma il nostro tentativo è farlo vedere ai ragazzi, nelle scuole, eccetera, per un'idea di educazione, alla legalità, ma che vuol dire un'educazione anche ai loro bisogni, ai loro acquisiti. Non farsi, non essere sempre strumento di altri, strumento della pubblicità, strumento di questo, strumento... Devono scegliere, devono fare la loro strada, i ragazzi. Quindi devono conoscere. E quindi questo è un tentativo di incontrarli, di fargli vedere qualcosa che possono capire e dopodiché di prendersi la vita in mano, perché poi il problema è questo, alla fine saranno loro a prendersi in mano questa vita. Speriamo che lo facciano al meglio. Grazie mille, ci saluti Clio, eh? Sarà fatto assolutamente, grazie a voi. Grazie mille. Grazie mille.